Ma provo a condire carmi non come riserva? Io no, al giorno fatevi ricerci una riserva e non si è mai sé non ci sarebbe perché non lo troviamo anche io a caso di comode Magari non tenderebbe più preferire però tenderebbe piùative che vengono alla licione Mi insegnavo più caro No, ma ci saranno perché ci vettaccavo che si è pietra in questo momento Questa significa che non è nascosto Per mandare un'attitudine al cap, sono dubbi dati per la marcia, sono dubbi dati per l'asso. Ma dipende? Direbbe essere più o meno. Dipende, dipende da qualsiasi messi poi a cosa. Però... Tutto, tutto, tutto. Però questo caso. No, secondo me ti contiene, vabbè, ma il problema poi è anche... Tanto che si fa, ho te o io santo. Prendi degli altri piuttosto che ci sono i set, prendi degli altri piuttosto che ci sono i piuttosto. Vabbè, comunque ti piace un po' che io... Per me è che se non vediamo i piuttosto, poi potete vedere un po'. Un piuttosto di due, tre.